Entra nel vivo il progetto Il Gran Sasso e la Laguna, gemellaggio culturale ed enogastronomico tra Crognaleto e Venezia diventate sorelle del gusto. Per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Poppa di Teramo prendono ora il via i tirocini formativi nel prestigioso circuito alberghiero veneziano, con le 400 strutture ricettive riunite nell'Associazione Veneziana Albergatori, pronte ad accogliere i ragazzi per i progetti di alternanza scuola-lavoro nel corso dell'estate 2016. Abbiamo voluto sancire questo patto forte che è un patto del lavoro, sono moltissimi gli abruzzesi che sono titolari d'hotel, una tradizione notevole quindi abbiamo pensato che i giovani degli istituti alberghieri potessero fare un nostalgia presso i nostri alberghi. È un grande progetto che parte da Crognaleto, che ha visto la partecipazione della Regione Abruzzo, della provincia di Teramo, dell'Istituto di Poppa, del BIM, Consorzio Ambifero Montano e poi della città di Venezia. Il primo luglio parte la prima tranche di ragazzi che vanno a fare lo stage nei migliori alberghi veneziani, portando la loro esperienza e sperando che portino a casa il risultato che tutti ospichiamo, cioè una nuova voglia imprenditoriale che la città di Venezia sicuramente insegnerà ai nostri ragazzi. Dal primo al 21 luglio una ventina di ragazzi con i loro tutor partiranno per questa avventura bellissima, perché chiaramente è una città che accoglie tantissimi turisti e l'Associazione Veneziana Albergatori è la secondaria in Italia. Che esperienza vi aspettate a Venezia? Noi ci aspettiamo una bellissima esperienza perché andremo ad applicare le nostre conoscenze di ciò che studiamo a scuola e ringraziamo i nostri professori, la nostra preside che ci permetterà di fare appunto questa esperienza e siamo sicuri che cresceremo sotto qualsiasi aspetto. Entusiasta? Sì, abbastanza. Tu? Anche. Sì, abbastanza.